Un partitone, bello e avvincente, equilibrato e tirato sino al termine. E' stato semplicemente uno spettacolo. Il derby tra Cristian Barletta e Salini si è andato in scena al pala di sfida Mario Borgia davanti a 2000 spettatori. Finale 3-3, risultato di parità tra piccoli e giustificati rimpianti sostanzialmente giusto. I biancorossi al termine del debutto casalingo in assoluto nel campionato di A2 conservano l'imbattibilità stagionale e restano in vetta la classifica del girone B dopo due giornate. Primo punto invece per il quintetto di Margherita di Savoia. Dazzaro, per i padroni di casa, scesi in campo in maglia gialla, sceglie inizialmente un quintetto tutto iberico-brasiliano con filo Garrote, Muoio, Nenè e Tosta, Piccion escluso dalla distinta per limite massimo di stranieri. Domenico, lo dispoto dalla parte opposta, risponde con La Rocca, Rondon, Galan, Nardacchione e Castro Giovanni. Quest'ultimo l'unico italiano tra i dieci giocatori schierati dal primo minuto. Lo spettacolo, offerto dai protagonisti e di altissimo profilo, fioccano le occasioni da una parte e dall'altra nel segmento iniziale di partita, ma il punteggio si sblocca solo a metà frazione. Corner per la Salinis, indecisione difensiva dei biancorossi, Dentini ringrazia e fa centro sul primo palo. 1-0 per il rossa-nero. La reazione del Christian è immediata e produce il pareggio dopo pochi secondi. Garrote combina con Binetti e poi scarica tutta la potenza del suo destro nella conclusione che ristabilisce l'equilibrio. La Rocca, ex di turno, nulla può. 1-1. La chance del sorpasso capita a Muoio, ma la sua sventola con il destro termina a lato per pochi centimetri. Non sbaglia dalla parte opposta a Rondon, che recupera palla, trasforma l'azione da difensiva in offensiva e conclude col botto la ripartenza. Nuovo sorpasso, Salinis dunque. La Rocca, in seguito, si oppone egregiamente prima a Garrote, all'esordio stagionale, poi a Capacchione, riuscendo a deviare in corner. E in precisa, invece, la stoccata di Galan per gli ospiti. Prima del riposo, poi Capacchione calcia a botta sicura. Muoio, suo compagno di squadra, salva addirittura la Salinis, che arriva avanti di un gol all'intervallo. Ripresa, rossa-nero per i colosi dopo meno di un minuto due volte con Rondon, ma in entrambi i casi Filò risponde presente. Poi sale in cattedra il Cristian. Tosta, calcia, muoio, colpisce clamorosamente il palo. Quest'ultimo, però, si riscatta con gli interessi poco dopo, confezionando con una traiettoria meravigliosa. Il gol d'autore che vale il pareggio, 2-2, spinge sull'acceleratore il quintetto di Antonio Dazzaro, che al sesto mette la freccia e la premiata ditta a Capacchione. Garrote, a firmare l'acuto del primo ed unico sorpasso bianco-rosso della partita, l'escalation di emozioni in ogni caso non è ancora terminata. Binetti impegna così la rocca, Nardacchione verifica i riflessi di Filò. Finale di partita, Nenesca valca la rocca con un tocco morbido, ma Rondon salva sulla linea. Ad avere la peggio nell'azione è proprio il portiere venezuelano della Salini, scostretto a lasciare il campo per infortunio. La chance per il più due capita poco dopo a Capacchione, che però la spreca così sul capovolgimento di fronte. Poi la formazione di Margherita non perdona. Rondon calcia sul palo, Nardacchione non sbaglia e mette a segno il gol del definitivo. 3-3, l'ultimo sussulto del match è ancora della Salinis con lo stesso Nardacchione, che impegna in questo modo Filò il derby. Dunque va in archivio senza vincitori né vinti. Antonio Dazzaro, il tecnico del Cristian, è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi e della straordinaria cornice di pubblico presente sugli spalti. Come si era messa la gara forse sicuramente abbiamo da recriminare sul risultato finale, perché proprio in occasione del pareggio abbiamo sciupato una delle tante occasioni che abbiamo buttato all'aria per chiudere la partita con Capacchione. Poi questo sport purtroppo è crudile, chi sbaglia paga, però la vittoria più grossa oggi è stata quella sugli spalti, anche quella sul campo da parte di tutte le squadre. Secondo me abbiamo dimostrato di poter recitare in questo campionato un grosso ruolo. Se continueremo a giocare con questa intensità e a crederci sicuramente ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Grazie a tutti.